Salve, questa settimana qui sono io e il Beppi. Dopo capirei perché siamo messi in questa maniera qua. Ora, il Carletto non ha potuto venire perché l'avevo mandato a Milano a un corso su come si fa a torsare i coriandoli che c'è davanti al casino con i guantoni da boxer. E vi dico invece l'acchiogia, l'acchiogia con il mio parente, l'Albano, che fa anche una gara di pesca alle anguille con le mamme. Del Cornelio da Vignola invece non aveva più notizie, l'è sparì. E sono venuto a sapere, tramite l'ivo dell'oio, che la sua sposa la lascerà dentro nel cesso perché continua tutti lì a fare poesie, 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 la lascerà nel cesso, la zona settimana, l'è da dentro da mangiare con la canetta attraverso il bus della ciave. Allora, due notizie ancora. Una, l'avevo di Arco. La giunta comunale di Arco la rinuncia a 200 mila euro del contributo provinciale per fare quella tettoia che doveva fare su Viale delle Palme all'ex tennis. Per me l'è una monada. Mi ho visto il progetto, l'era fatta molto bene. Il problema era questo. Secondo me, insieme al mercato contadino, ti potevi metterli lì di tutto, anche ad esempio quando fai il bonsai con il risparmio e molti soldi per tende, tendine e tendotte. Poteva metterli lì quando arriva la Transalp, poteva essere il campionato di corsa in montagna con chi va su per il castello che dopo gli arriva lì. Ad esempio il mercatino delle Pulci, quel del riuso, la festa dello sport, il carnevale dei putelotti. Allora, tu quel che adesso vai fare sul Viale delle Palme. È il posto, secondo noi, è il posto perfetto. Io non ho paura dalla protesta che fa la Chiara Parisi insieme a tre o quattro ambientalisti, quei leader dopo Sena, quando non si sa cosa fare, diventano ambientalisti. Allora, abbiamo visto, fra l'altro, quanti voti che io non ho paura alle elezioni comunali. Niente. Allora, il risultato è che non c'è neanche più i soldi per mettere a posto tutto quel cesso che c'è, dove c'è l'ex centro giovane lì sul Viale delle Palme. Allora, tra l'altro, tra l'altro, notizie del giornale, no? Sembra che volerà rifare quel famoso progetto che c'era 10 anni fa di fare il parcheggio interrato. Allora, lì, non solo tagliate il rame, lì batteranno tutte le piante alla faccia della Chiara Parisi e di tutte le sue amiche ambientaliste. Il Beppi, però, mi ha detto, mi ha detto una notizia, la sua vesta ieri, no? Che in Valdenom, in Valdenom, Gesù che c'è spesa da ridere. Perché il contributo che doveva avere l'Arco, la giunta provinciale, è la che l'ha mandato in Valdenom. Allora, loro gli ha detto, ostia, vai, vai, che fanno? Fanno subito una bella tettoia che sono messa ai pomari, no? In maniera che, anzi, insieme alla tettoia dove c'è entrato, abbiamo una bella targhetta così. Grazie, Arco. E ieri mattina, pare che io abbia telefonato al sindaco e gli abbia detto, non vi abbia qualcosa altro che non vi serve a voi, che ne manda su a noi come contributi. Ecco, questo è il risultato di quando ti dici di no alla giunta provinciale. Un'altra notizia che aveva, la aveva da Riva. Riva da quel paesocco che subito dopo San Nazare, no? Se tutti hanno conoscenza. Ecco, in confronto, e devo leggere perché le parole in inglese, la Job Act sul lavoro di Renzi è una robetta da dilettanti. La comunità dell'Altogarda la formerà delle squadre per un piano di monitoraggio per la Zanzara Tigre. Io assumo nove persone e che sarà una commissione di esperti che valuterà tutte le candidature. Io già assegnare dei punteggi, proprio una roba alta, alta. Allora, cinquanta punti la aveva dato a chi che dà la laurea e l'orientamento delle materie di studio. Chi, secondo me e Beppe, avevamo pensato a chi sarà privilegiato, sa quegli ingegneri aereo-spaziali, perché per correghio di Zanzara, poi mi hanno dato un laureato, che ne so, medicina o quelle robettine lì. Dopo che 30 punti gli dà per l'attinenza, per il diploma e l'attinenza agli studi, che con tutti i camerieri che arrivano in questo periodo qua, può andare bene al diploma della scuola eberghiera, insomma, basta iscriversi. Un'altra bella roba, lì, i vinti punti per le esperienze curriculari. Allora, e Beppe che ha conoscenze e amicizze, mi ha detto, guarda che lì, per lì, manca i conoscitori dell'ora e del ben, e anche pescatori dei varoni e delle scardole, quelli che li sapevano nel calare della rocca. Ecco. E invece, l'ultima, questo è bella, cinque punti per le motivazioni espresse dal candidato. Cioè, il candidato va lì, è un rapporto che il Galù con le Zanzara, no? Ora, noi abbiamo pensato che se ti vai al mare, no? E sai che c'è quando quel periodo c'è le Zanzare? Le Zanzare te le becchi tutte tutte, c'apparai al massimo dei voti. Le ti mangiate solo, quindi va tutto bello. Però qui, adesso, bisogna anche che vi mettere in pelle d'accordo, perché mi stavo via da tutte quelle robettine qua. Allora, mi riole che gli ambientalisti seri, sulla rivista Scienze del numero di aprile, che sarebbe una delle più autorevoli pubblicazioni nel campo scientifico, gli preoccupai, perché gli dici che debelare la Zanzara tigre, bisogna anche di troppi dei prodotti, no? Che gli è talmente nocivi e distrugge l'ambiente. Allora, mi piaceria sentire anche quel che dice l'ambientalista Luca Mercalli, quel che non vedeva bene i coriandri che era sul viale delle pane. Però noi, anche, abbiamo anche il Zanzare. Noi che volevamo... Vabbè, guarda che bella questa chile. Beh lì, questa Zanzara. Prova già parla. Vedi che lì ti scampi? Vedi che lì ti scampi? Ecco. Allora, questi chile Zanzare che, ad esempio, se ne viene nel parcheggio Foro Boario di queste qua, che ne viene due o tre, ma se non stai attenti, le bemmo mai anche in bras. Ecco. Però noi ha le Zanzare che volevamo, e io e Beppi da Telegarda Trentino vi salutiamo, vi facciamo gli auguri di Buona Pasqua e buona Zanzara. Buona Zanzara Tigre. Guarda che simpatica che lì, guarda. Guardala bene, guarda che bella. Carina che lì. Queste le Zanzare che aveva Marco.